Tutte rinviate a giudizio le otto persone coinvolte nell'operazione Coffee Break che aveva portato a sgominare un giro di spaccio messo in piedi tra Piana del Sele e Vallo di Diano. Si tratta di Samira Armac, 33 anni, teggiano, vero perno della vicenda, Antonio Mileo, 32 anni, di Atena Lucana, Giuseppe Morello, 47 anni, di teggiano, della rumena, Hoana Eres, 46 anni, di teggiano e dei marocchini, Zakaria Fai, 35 anni, teggiano, Mohamed Mu, 30 anni, Saeed Amal, 44 anni e Sami Ursan, 39 anni, tutte e tre dieboli. A giugno inizierà per loro il processo di primo grado. La vicenda venne alla luce grazie al blitz compiuto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina con il supporto del nucleo cinofili di Sarno e dell'elinucleo di Ponte Cagnano nell'ottobre del 2018. Ad aver fatto scattare le indagini nel novembre del 2017 era stato l'arresto del marocchino Samira Armac sorpreso con 130 grammi di marijuana e 10 di cocaina. Da lì erano partite le intercettazioni telefoniche e ambientali raccolte spesso nell'auto dello stesso Armac utilizzata anche da Mu e Amal che avevano permesso di ricostruire l'organizzazione. Per avere la droga bastava prenotarla a un numero di telefono intestato alla Eres con un linguaggio in codice. Andiamoci a prendere un caffè, così si dava un appuntamento presso un bar di Teggiano dove avveniva la consegna. I prezzi di una dose oscillavano dai 20 e 50 euro. Ricostruiti così tutti i ruoli e nomi dei coinvolti, diverse anche le piccole operazioni svolte in questo frangente che hanno permesso ai carabinieri di recuperare alcuni quantitativi di droga, per lo più cocaina e hashish, per un ammontare totale di circa un chilo e mezzo. Poi, quando il quadro fu ben chiaro, scattò il blitz che portò alle misure cautelari nei confronti di queste otto persone per cui ora si aprirà il processo. 16 capi di imputazione che vanno dalla detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente alla resistenza al pubblico ufficiale.